Draghi direi che è la fine di una parabola di restaurazione. Il sistema europeo ha messo a capo di questo paese turbolento il più grande, il più potente e il più bravo anche dei rappresentanti dell'oligarchia finanziaria mondiale in Europa. Dal marzo del 2018, le elezioni populiste, in cui bene o male movimenti abbastanza critici nei confronti di questo sistema, anche europeo, di sinistra, di destra, comunque hanno avuto la stragrande maggioranza dei voti. La stragrande maggioranza dei voti. Se tu metti insieme i voti del Movimento 5 Stelle, della Lega, anche di fratelli d'Italia nella sua natura anti-Unione Europea, della sinistra, e metti anche insieme gli astensionisti, tu ottieni il 70-80% del popolo italiano che tre anni fa ha detto un no, o se vuoi un vaffa, ma proprio roboante nei confronti di questo sistema, specialmente del Partito Democratico che negli ultimi dieci anni ha governato questo sistema, ma anche certo di Forza Italia, cioè di quelle forze che negli ultimi anni hanno gestito la globalizzazione neoliberista di cui parlavamo. Ora, il sistema che esiste ha avuto, non dico paura, ma molta preoccupazione, perché l'Italia non è un paesino da poco. Avere un governo giallo-verde in Italia per l'Unione Europea e per i poteri retrostanti è un grosso pericolo, molto grosso, perché se l'Italia, dico per dire, si fosse messa in testa di fare quello che ha fatto la Gran Bretagna, cioè di incominciare a contestare la propria permanenza nell'Unione Europea a queste condizioni, ebbè, crollava l'Unione Europea in toto, non è che si voleva fare come con l'Inghilterra. L'Italia non è la Gran Bretagna che comunque aveva mantenuto la sterlina e che ha sempre avuto un atteggiamento atlantico e quindi di relativa adesione all'Unione Europea. L'Italia era un grosso problema. Quindi è stato avviato, secondo me, avviato un processo che ha avuto alcune tappe misteriose, misteriose se non le leggiamo in questa chiave, cioè le dimissioni di Salvini, che erano completamente incomprensibili, e hanno fatto cadere un governo che aveva una maggioranza enorme degli italiani a favore e che comunque poteva dare ancora molte cose. Quindi la caduta di quel governo con il voltafaccia di Salvini che sta ancora a pagare le conseguenze, perché in quel momento i sondaggi lo davano al 35%, ora sta scendendo quasi al 20% e deve pagare ancora. Poi la nascita del governo, come si dice, giallo-rosso, col PD che già era una cosa abbastanza abnorme, perché è stato proprio il PD di Gentiloni, il PD di Letta, il PD di Renzi, che il popolo italiano ha bocciato tre anni fa. Proprio quel partito, più di ogni altro, identificato giustamente come il partito del sistema e di questa Unione Europea. E noi ci siamo trovati da un momento all'altro, in due anni, ad avere un PD presidente del Parlamento Europeo, un PD commissario italiano mandato in Europa, gentiloni, proprio gentiloni, e praticamente Renzi che di nuovo, col 2% che gli danno i sondaggi, al centro della scena politica, che ha fatto cadere pure il governo. Conte II. Alla fine di questo itinerario di restaurazione paranoide, arriva il padre di tutti gli neoliberisti, anche se adesso fanno i keynesiani, però in realtà ognuno poi è quello che è, e che è stato, non è che si può cambiare pelle a 70 anni, e non credo, no? Il sistema europeo ha messo a capo di questo paese turbolento il più grande, il più potente e il più bravo anche dei rappresentanti dell'oligarchia finanziaria mondiale in Europa. Quindi io credo che questo sarà ed è un processo che ci potrà dare ulteriori sorprese, cioè a me pare che Draghi stia incominciando a manifestare delle ambizioni di leadership anche in Europa. Forse Draghi si vuole sostituire in qualche misura come punto di riferimento dell'Unione Europea nel momento in cui la Merkel sta tramontando e Macron a sua volta sta tramontando pure lui, capisci? Cioè il sistema oligarchico esiste e fa le sue strategie. Grazie a tutti, grazie a tutti.